Oltre 500.000 persone, secondo la stima del Comune di Napoli, hanno partecipato per tutta la notte scorsa alle manifestazioni promosse dall'amministrazione in piazza del Plebiscito e sul lungomare liberato. In un tweet su Twitter il sindaco di Magistris ha commentato così la notte del capodanno partenopeo. Napoli questa notte era fantastica e unica, un fiume umano da via Toledo a lungomare. Oltre 6 chilometri la nostra potenza, il nostro cuore. Il sindaco durante il conto alla rovescia degli ultimi attimi del 2013 nel fare gli auguri alla gente che riempiva piazza del Plebiscito ha detto tra l'altro forza Napoli, riferendosi alla città e poi ha aggiunto alla faccia di chi ci vuole male. E a questa frase si è registrato un vero e proprio boato. Intanto dopo la mezzanotte i fuochi d'artificio hanno illuminato il Castel dell'Ovo e la musica delle quattro postazioni dance ha animato il lungomare liberato dove tantissimi giovani si sono intrattenuti fino all'alba.